Salve, io sono Jacopo in Artefralapo ed oggi ti mostrerò come installare la nuova versione di macOS sull'Intel Nook 10. Per prima cosa del link in descrizione scarica questi due file. Installa Python, estrai l'archivio, Vai nel secondo percorso ed aprilo nel terminale. Ritorna sulla guida e copia la stringa relativa alla versione di macOS che vuoi scaricare, per poi incollarla nel terminale. Nella cartella ti troverai questi tuoi nuovi file. Adesso collega la chiavetta al computer e formattala in FAT32. Nella chiavetta, crea una cartella conosciuta per il file. Il seguente nome. Successivamente copiaci i due file scaricati in precedenza. Infine copia la cartella IFI. Nel caso non sapete configurarla vi lascio in descrizione i link per scaricare alcune cartelle preconfigurate. Completato tutto non ti resta che settare il BIOS e avviare il dispositivo dalla chiavetta per procedere all'installazione. In descrizione ti lascio sia il collegamento al mio precedente video sulla vecchia versione di macOS, nella quale mostro anche la fase di installazione del sistema operativo, sia il link al nostro gruppo telegram nella quale potremo discutere e risolvere eventuali problematiche. Grazie. 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 Grazie.